buonasera e benvenuti nella mia cucina la cucina di a tavola consiglia questa sera ancora una volta abbiamo come protagonista la melanzana eccola qua allora che cosa andrò a fare intanto vi iscrivete al nostro canale e ci seguite anche su facebook e instagram perché vi metto il link delle nostre pagine in info box ok e fatto questo fatto ok vi dico gli altri ingredienti melanzane basilico parmigiano olio extravergine d'oliva non usiamo quello del gruppo caro mi raccomando quello è buonissimo la ricotta fatta da noi infatti penso che poi metterai anche certo la ricetta del sale della pasta sfoglia vi metto anche lì oltre che della ricotta anche del gruppo caro perché se andate sulla loro pagina avrete sconti a non finire allora detto ciò abbiamo circa sei atti di melanzane cosa dobbiamo fare semplicemente togliere il picciolo in questo modo ovviamente le dovete lavare prima le tagliate a metà per il verso della lunghezza fate dei tagli in questo modo e poi l'andata a pennellare con dell'olio adesso vi dico le quantità anche del parmigiano della ricotta tranquille ecco le pennellate in questo modo e le mettete a testa in giù così ok detto ciò io intanto continuo abbiamo qui circa 100 grammi di parmigiano reggiano grana padano quello che volete che vi piace di più abbiamo qui circa quattro etti di ricotta alcune foglie di basilico un pizzicotto di sale e due rotoli di pasta sfoglia l'olio è a piacere nel senso solo per condimento l'olio è solo per condimento della melanzana perfetto ok quindi adesso andiamo a mettere le nostre melanzane per un'ora a 180 gradi nel forno forno statico benissimo e ci vediamo a melanzane pronte eccoci qua le melanzane sono pronte adesso noi le andiamo a girare mi raccomando sono incandescenti quindi delicatamente senza sfruttarvi guardate sono perfette ecco qui e ora ne andiamo a scavare con il cucchiaio sempre tenendo le ferme da un lato in questo modo se no aspettate che si raffredda io ho già messo il basilico tritato dentro alla ciotola adesso andremo a mettere tutti gli altri ingredienti quindi scavo tutte le melanzane e ci rivediamo tra un attimo eccolo qua la nostra polpa di melanzane con il basilico sono nella nostra ciotola la lasciamo grossolana in questo modo ci mettiamo il parmigiano un bel pizzicotto di sale perché ricordo che ha le melanzane io non ho messo sale e la nostra ricotta nostra veramente nostra prendo una forchetta e vado a mescolare tutti gli ingredienti che bella cammina che esce fuori sì mi raccomando io uso la mia ricotta perché come potete ben vedere è più dura delle altre ricotte ma semplicemente perché lo faccio scolare sotto un peso cioè la faccio diventare quasi una ricotta salata poi alla fine per fare questo tipo di preparazione se no ovviamente ce la mangiamo così quindi quando comprate la ricotta mi raccomando fatela scolare dal siero perché se no vi va a ammorbidire troppo la pasta sfoglia ok allora in questo modo potete fare o un rodolo oppure dei fagottini potete decidere voi delle monoporzioni se vogliamo ok cosa faremo delle monoporzioni almeno ognuno prende la sua e non ci rubiamo no non ci sono problemi di neanche di fuori uscite di insomma niente ecco ok allora questa è la pasta vado a dividerla in quattro così assaggiate mi raccomando sempre perché tante volte magari il composto non è abbastanza saporito infatti ci manca sale visto io col sale poi ci ho dedicato da un pezzo quindi due pizzichi di sale andiamo a rimescolare un po se volete potete metterci per fare una cosa un pochino più così particolare delle uova intere ah cioè vi faccio vedere eh non intere col guscio allora così un paio di cucchiai dovrebbero abbastare e l'uovo lo metti? fate così ah il buchino e mezzo ci metti l'uovo e nel centro ci mettete l'uovo solo il rosso? tutto quanto ok buona idea ricoprite con l'altra pasta sfoglia chiudete con le dita poi andiamo a sigillare con la forchetta pulita ovviamente quando togliete le melanzane dal forno lasciatelo acceso perché vi riservirà caldo per questi rustici andiamo a fare tutti e ci vediamo tra poco ci vediamo appena fatti sì eccoli qua noi siamo quattro e quattro sono perfetto adesso faccio non con questo ma con le forbici che ovviamente non troverò eccole dei piccoli taglietti per far uscire il vapore esatto famoso camino se volete potete anche spennellarlo con il frutto dell'uovo ok forno già preriscaldato 185-190 gradi forno statico per almeno mezz'ora intanto lo vedete quando sono pronti perché diventa tutta la pasta bella croccante e dorata a dopo eccoli qua ragazzi sono pronti abbiamo messo abbiamo impiattato uno così vi faccio vedere lo tagliamo a metà sentite com'è croccante ed è perfettamente cotto anche sotto guardate è anche dentro eh sì bello veramente bello ragazzi che altro dire continuate a seguirci condividete e mi raccomando seguiteci sempre sempre ciao a tutti ciao ciao